salve a tutti youtubers qui è calico 84 questo è un breve annuncio di live stream infatti questa sera alle 8 streameremo this war of mine un gioco che ho da un bel po di tempo in libreria ed è da un bel po di tempo che voglio provare e ho deciso di provarlo con voi questa sera non so se faremo solamente di war of mine magari farò anche qualcos'altro successivamente vedremo un po come si evolverà la serata per adesso semplicemente vi aspetto numerosi dalle 8 in poi questa sera su twitch ci vediamo ragazzi ciao ciao